Dolciastro profumo d'acacia miscelato al tanfo dei diesel che scaricano tonnellate di semi in utilità nel vorace ventre della copp in questo ennesimo lunedì. Di crisi del superfluo, brandelli di chiacchiere post-domenicali, siamo andati là a rotto tutto il tempo, non la reggo più, abbiamo fatto buh da mamma come ogni domenica. Che palle! Ma che stronzo! Ed eccoli là, in prima fila, i due vecchi rancorosi, pronti allo start della porta girevole, incuranti l'uno dell'altra. Lo sguardo vuoto, lontano, perduto in ciò che non fu. Quando finalmente la porta si muove, non si curano dei fiati sbuffanti, dei colpetti di tosse, della tangibile impazienza alle loro spalle. Si prendono tempo, tutto il tempo dei vecchi, e si muovono lenti, più di quanto non imponga l'età. Assaporano il momento, uno dei pochissimi nel quale non sono invisibili. Assaporano il momento, uno dei pochissimi nel quale non sono invisibili.